Un torneo che ricorda una persona degnissima che ha fatto tanto per questo club, un torneo che ha visto anche una buona partecipazione e anche le due finali non erano veramente scontate. Assolutamente, è sempre un onore organizzare in memoria del past president Angelo Rossini perché tanto ha fatto per il tennis e oltre all'impianto, alla costruzione dei campi e tutto il resto, ma anche allo sviluppo dell'attività proprio qua della scuola tennis e dell'agonistica. Quindi organizzare un torneo giovanile adesso in memoria sua è la cosa meravigliosa. Le ragazze sono state bravissime, una finale combattutissima, tant'è che è finita a 6-4-6-4, una manciata di punti di differenza. I maschi un pochino meno perché erano cotti dalle partite dei giorni precedenti e ha avuto la meglio chi oggi fisicamente ha resistito di più. Gli ultimi tre mesi sono stati tremendi. Tremendi, ma bellissimi, molto intensi, un'attività che si è svolta regolarmente durante tutto giugno e luglio con in più il bellissimo ATP 125, i campionati wheelchair e adesso questo torneo. Appuntamento a settembre abbiamo il torneo internazionale di Paddle, il FIP Prize dal 16 al 22 e anche quello so che sarà una bellissima manifestazione. Un torneo, quello dello Sporting a livello internazionale che questa volta ha visto vincere te con una fatica media, diciamo. Lei ha giocato bene, io credo che sono riuscita a giocare meglio, però era tutto il torneo che era molto difficile, era un torneo bellissimo. Vieni da esperienze analoghe o hai avuto un'esperienza importante solo qua? No, sono arrivata in altre finali, in Tennis Europe, però questa è la prima che ho vinto, quindi sono contenta. Adesso cosa ti rimane da fare? Riposarmi un pochino e allenarmi ancora di più. Un percorso che a questo punto può dirsi è arrivato al traguardo, il traguardo della tua prima vittoria in questo genere di gare. Sì, è un traguardo che comunque volevo raggiungere, aspettavo, diciamo che anche a Brindisi ho fatto un bel torneo, sono arrivato in semifinale, però lì non ho giocato bene come in questa occasione. Ho giocato il mio tennis anche dal punto di vista dell'atteggiamento, parte un po' la prima partita, sono sempre stato concentrato e a focus, quindi sono veramente contento e soddisfatto. Il tuo avversario si è dimostrato un po' meno sul pezzo, come si dice, arrivava dalle qualificazioni, arrivare alla finale forse lo ha trovato un po' svuotato. Questo non so, so che io ho giocato bene, ho espresso il mio miglior tennis che potevo esprimere oggi e forse l'ho messo un po' in difficoltà, diciamo che con lui mi sono scontrato anche al macro area a Palermo e ci ho perso 6-4 al terzo, quindi comunque è un valido avversario, uno che gioca bene e quindi questa vittoria mi dà fiducia anche. Prossimo impegno? La settimana prossima c'ho il Next Gen Affuge, dove contemporaneamente faccio il centro estivo e poi mi concentro sui campionati italiani. Grazie. Grazie.